Ciao a tutti ragazzi, oggi sono bravo in casa tintorese, troppo è la sonata, è la sonata si inquadra poco sonerando, è la stessa silver, quando fanno di si che lo sentiamo sonata, non c'è tanto, ma questo campanone è davvero piccolo, questo è la sonata esistiva, ho perso o l'ho comprato, buon sconto a tutti. E' qui, e vedemi meglio dall'acqua, e' qui, non mi piace, e' qui, non mi piace, Grazie a tutti.